LUCY RED Qual è la mia stanza? Ho bisogno di un posto dove stare. Mi spetta di diritto, no? Uno dei film più applauditi al Festival di Venezia. Devo dire che avete una splendida cera. Una canzone per Bobby Lowe. Ti ha dato di volta il cervello? Preferisci che se ne vada in giro e che scopra la verità? Lui, un professore. Ah, che bravo. John Travolta, una performance d'alta classe. Sai che Luzon è uno scrittore? Sta scrivendo un libro su di me. Scarlett Johansson, la diva del momento. Capitolo 1, mi sono svegliato, mi sono ubriacato, poi sono svenuto. Capitolo 2, mi sono svegliato, mi sono ubriacato. Bella e spirituosa. Un film di amori nascosti, amicizia e poesia. Ti ricordi di tua madre quando vivevate insieme? Mi sono inventata tanti di quei ricordi che ero arrivata al punto di credere che fossero veri. Una canzone per Bobby Long. Come hai potuto parlarmi sempre di lei e non dirmi questo? La storia di una vita in una canzone d'amore. Dall'8 ottobre al cinema.